Lei dice che sono sempre a casa a fare un cazzo nel letto, ed è per questo che non vuole darmi il cu- INCREDIBILIO! Cercava tutte le scuse per non darmelo! Patato! Se ti trovi il lavoro ti do il culo! Ma mi pico per cazzo, ma c'è il tuo lavoro, se vantolo lo sto cercando! INCREDIBILIO! INCREDIBILIO! Patato! Eeeh! Se mi lavi i piazzi ti do il culo! Ma mi dico per cazzo faccio, allora ti pedi, e sono perciorotto! Ora mi ha proprio rotto il cazzo, prossima volta me lo darà sicuro! More! Eeeh! Se la gazzella si salva questa sera ti do il culo! Eeeh! 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 Eeeh!